eccola qua, erano le 4 del mattino e lei lo dice perché alle 4 del mattino aveva pubblicato una storia su Instagram, quindi questo i magistrati potranno appurarlo, quindi lei pubblica una storia su Instagram e a un certo punto dice, all'improvviso arriva questa ragazza che abbiamo siglato col nome M puntato, entra nella stanza perché voleva fare una striscia, una striscia di cosa? Non di cocaina, ma di 2CB, che cos'è 2CB? Abbia pazienza che io non sono esperto, cos'è? È un tipo di droga, siamo andate noi due insieme, lei e questa ragazza e l'abbiamo fatto, a un certo punto dice, è arrivato in questa stessa stanza Alberto, quindi siamo sempre nella notte fonda, siamo alle 4 e qui si assume altra droga, dice sempre la fidanzata di Genovese, ricordo che la mia amica E, che sarebbe Elisa che sta in collegamento con noi, me la inquadrate? Eccola qua, lei, sarebbe entrata perché ha scritto un messaggio chiedendo di recuperare la sua borsa e si è presentata alla porta, ecco ci dica se è vero questo? Assolutamente sì, io verso le 4 e mezza dovevo andarmene via, dato che ero andata già lì prima, verso le 11, prima che iniziasse la festa, avevo chiesto a Sara se gentilmente mi poteva lasciare la borsa in camera sua, in modo che potevo ballare tranquilla senza il peso della borsa, solo che poi quando era ora di andarmene alle 4 e mezza la camera era chiusa, quindi ho iniziato a chiamare ininterrottamente Sara e Alberto, a un certo punto Alberto mi risponde e mi aprono la porta e mi passa la borsa, io li ho salutati dalla porta, sono rimasta sulla porta e niente, li ho salutati e me ne sono andata, stavano dentro la camera tranquilli ballando, c'era la musica alta e basta, io poi me ne sono andata. Mi scusi, lei ha avuto un attimo di tempo per vedere, no? Perché e quindi cosa ha visto? Che c'erano la fidanzata di Genovese e l'altra ragazza che continuava a ballare da quello che mi dice? Sì, stavano ballando, fondamentalmente sì, c'era Sara che era sul letto e che ballava e l'altra ragazza invece nel corridoio, che c'era un corridoio che portava verso il bagno. Posso chiedere se erano vestite? Erano in intimo, intimo costume, sì. Però fino a quel punto la situazione da quello che dice lei è così, presa la borsa... No, mi hanno salutato, quindi erano tutte tranquilli. Che sensazione le ha dato Genovese? Perché se le ha aperto, le ha risposto, voglio dire, rispetto all'assurda notte di Milano, dove non connetteva, insomma, abbastanza, qui addirittura le apre la porta e le dà la borsa, quindi bene o male se l'ha fatto, vuol dire che connetteva. Era assolutamente connesso ancora perché mi ha risposto al telefono dopo la terza chiamata e mi ha aperto lui, è andato lui a trovare la borsa che era messa dentro un armadio e me l'ha portata. Quindi lei non ha avuto, da quello che ci sta dicendo, la sensazione che all'interno succedesse qualcosa di anomalo? Nessuna percezione di disagio o pericolo, assolutamente. La fermo un attimo. Grazie a tutti.